Dopo quasi sei anni ho ritrovato in uno dei miei vecchi harddisk le registrazioni mai pubblicate di questo minigame. Godetevi quindi questo video inedito che viene dal passato. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Battle Royale. Oggi sono qui con il Team Tet. Ciao a tutti. Eccoli qua i nostri amici. Mi raccomando lasciate subito un like e ovviamente iscrivetevi sia al mio canale che al canale di questi due alle mie spalle. E ora entriamo in partita e vediamo di vincerne qualcuna. Ed eccoci a bordo del nostro EnderDrago. Buongiorno. Allora, no non voglio ingrandire la mappa che non si capisce nulla. Ma allora sei Nucotec eh? Ok. Così combinato? Allutiamo IronSteave24. Esatto, io andrei al tre che non siamo mai andati ragazzi. Al tre? Al tre, al tre. Quindi ci buttiamo praticamente now. Sono le case delle appoverata queste qua. Eh sì, su quelle marroncine Tec. Va bene, va bene. L'importante è crederci. Intanto il nostro compagno è stato eliminato quindi un saluto. Già. Io non ho ancora toccato la terra. Ok, bello. Una spada di cartone. Allora che ti chiederei, ma a cosa serve un granaglio così grande se poi non ci metti dentro niente? Soprattutto non ci metti armi. Non ci metti armi. Allora, io ho trovato una spada di ferro per ora. Anch'io è un po' di cose, ma robe abbastanza inutili per il momento. Spada di avanti. GG. Allora, ho già organizzato un po' le cose. Eren, sono qua per lo scudo. Ah, sì, dammi lo scudo. Aspetta, aspetta. Ok, dove sei, dove sei, dove sei, che non ti vedo? Dietro di te. Dietro di te. Ah, eccoti, oddio. Uh, ma sei... Sei molto losco oggi. Sono molto losco. Sono loschissimo. Infatti. Ok, scudati. Sono tipo un assassino. Ok, ciao, Tier, che entri pestando per far finta di essere un nemico. Infamio, pure hai perso sull'abilità la spada. Facendo ridere tutti. Andiamo verso... Cosa dite? Ci spostiamo? Sì, verso il 6. Sì. Tierless è il nostro, veramente, la nostra guida. Sì, ma perché non so per quale motivo, ma ho capito come funzioni la mappa qua. Credibile. Poi ho capito come funziona, però è palloso stare lì a orientarsi. Sì, perché devi guardare il segnalino, non capisci qual è il tuo. Esatto. Ok, ho trovato un medikit. Ho trovato un altro scudo. Ce l'abbiamo fatta. Allora, anch'io ho trovato un medikit che metto subito qua, al posto di questo. Anch'io medikit. Beh, raga, io ho anche un altro scudo di riserva, non so poi se serve qualcuno. I muri non li ho mai usati. Sono all'entrata del castello dove c'è. Ero indietro. No, dai, raga. Ok, mi scudo. Raga, no. Arrivo, arrivo a darvi una mano. Ok. Mi avevo mezzo a cuore, praticamente. Perfetto, perfetto, perfetto. Questo l'abbiamo seccato. Per fortuna sono arrivato in tempo, eh. Sì. Allora, prendo un po' di frecce che non servono e prendo due mele. Non so voi cosa vi serve. Un forestide di riserva perché l'ho appena dovuto spiccare. Esattamente. Prendiamo anche qua il launchpad. Io uno ce l'ho. Se ne volete un altro voi. Anch'io ne ho qualcuno. Nessuno aveva delle spade in diamante tra quelli che abbiamo ucciso? Io ne ho tre. Sì, volevi? Ne ho tre. Più che altro per avere uno di riserva, dato che la mia si sta rompendo. Io ne ho preso, ne ho una sola. Ok, ne ho due. Però non è necessario, tranquilli. Ma ne ho tre. Scusa. Cioè, prima la vuoi o non la vuoi, sta spada? Te vi chiedi, me la chiedi, ti dico, ne ho tre. Non mi dispiace portarvi via gli oggetti. Dai, su, vieni qua, pigliatela. Grazie. Gli oggetti. Provato anche il forestide in quella casa là. Sono contento. Raga, mi sa che adesso dovremmo... Raga, c'è una persona dietro di me. E vieni. La traversa e le lascitiamo giù. Ok. Sta sparando. Occhio, 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 no, no, no. Faccio così direttamente e via. Ok, ok, ok. Preso. Le vado le miele. E' scappato. Aspettiamoli qui, aspettiamoli qui. Occhio. Mi guardo un po' alle spalle. Preso. Non volete andare, preso. Mi sono imbalzandito tutte quante le fireball. Notato. Infatti, che top. Allora, ma... Ma l'ho preso, no. Non posso prenderne qualcuno? Anch'io non riesco a prenderle. Occhio. Occhio, non riesco a lanciare le TNT. Quanto pare. Han pensato di lanciare le TNT. Dove è andato? Mi sa che è morto. E' morto, è morto, è morto, è morto. È morto, c'è uno dietro, uno dietro. Sono giù, sono a terra, sono a terra, sono a terra. Ok, ok. Alzo, alzo tier. Vai. C'è il forestide, forestide. Occhio, occhio, occhio. Grazie. Ok, che tier? Sono a terra, sono a terra, sono a terra, sono a terra. Aspetta. Dai, rialzami. Ok, ok. Stai asciutando, Eren. Ok, ok. Ok, vabbè, ma che sfiga. Sono morto. Ma no. Ma come ha fatto da solo? No, ragazzi, erano rimasti in due poi. No. Ragazzi, non dovevo tirarvi su perché... No. Eh, ragione, ragione. Stai a giochillare prima, però sta arrivando la barria. Accidente, accidente. Peccato. Oh, allora. Allora, quando vedrò qualcosa... Siete tutti sopra di me, ragazzi. Ok, non vedo più niente. Eh, andiamo... Eh, direi a... Otto potremmo andare. Andiamo a otto, va bene. Intanto salutiamo il signor... KM Eggsy. Grazie. Allora, è già sceso dall'uovo. Allora, otto, dici? Otto potrebbe starci. Cioè, mi butto praticamente ora. Eh, ragione. Ah, c'è la casa dell'Hobbit lì. Eh, sì. Ok, ci siamo. È il mio Hobbit preferito venire qui. No. Non vedo... Non ho preso niente io, ragazzi. Tanto... Luttiamo Eggsy che sta morendo. Grande Eggsy. Magari hai fatto qualche kill. Perché è a nove cuori. Avete già luttato tutto. Dentro sì. Come dentro sì? Sotto? Dentro la casa dell'Hobbit, sì. Mi sa che la zona otto è già finita, sapete, raga? Eh, sì. Mi sa di sì. Era una zona veramente schifida. Postiamoci nella zona... Sì, perché così non vado da nessuna parte io. Dove siete? Sono un attimo a mettere il mio posto all'inventario. Arrivo, eh. Ok. Io sono già andato verso la zona quattro. Quattro? Sei sicuro di voler andare da quattro? Perché no? Sta stringendo lì. Sta stringendo... Abbiamo un sacco di tempo. Sì, va bene, dai. Dov'è che hai traversato, buon Tearless? Ho fatto il ponticello qua. Ecco, lo vedo. Riuscirò a caderci, eh? No, forse no. Allora, la zona quattro è quella azzurra, no? Sì, vado a dottare perché ho bisogno. Sì, vai verso nord, Eren. Ecco, vi vedo. Nido roba, io. Anch'io. Rip Eggsy, che è morto nella zona 9. Ma perché sono queste cose inutili, raga? No, queste le volevo tutte. Tu salgo. Una cassa qua. Io andrei direttamente nel castelletto. Oh, lo shield. Entro nel castello perché ho bisogno della spada in diamante e non ce l'ho. Ma io ne ho una di riserva, se vuoi. Ah, sì? Sì. Ho anche un'altra ascia. E quattro kit. La ascia puoi lasciarla. Chi si sta inderperlando? Io. L'ascia puoi lasciarla. Perché sono pigro, non lo voglio di camminare. La lascerò. Io non l'ho ancora trovata, fai te. Ne ho tre. Se vuoi, te ne do qualcuna. E dopo sì, mi servirà dopo. Ne ho quattro. Ah. Miseria. E ho quattro, anzi, cinque kit. La miseria. Cioè, tutto te hai preso, eh. Sì, ma non ho gli scudi per dire. Ok, ho trovato la spada in diamante. Quinta spada in diamante trovata. E sei kit. Raga, vi aspetto all'uscita del castello. Oh, ho trovato. Raga, ho sei spada in diamante. E vabbè, basta. Raga, Johnny Frutta ha appena fatto una kit. Qualcuno ha degli scudi. No. Allora, troviamoci un attimo fuori dal castello. Dai, facciamo sta cosa. Ho quattro launchpad, ragazzi. Quattro, non uno. Dove siete? Sono all'entrata del castello principale. Sto arrivando. Ok. Allora. Regalami una spada, va. Guarda. Uno. Due. Tre. Quattro. Due a testa e io me ne tengo due. Ma io ho già uno. Vabbè, con questo siamo tre. Ok. Però il fatto di non avere lo scudo pesa. E quello non l'ho trovato. Volete dei first side? Io ne ho uno. Allora, tieni. Ne hai un altro? Sì, ne ho un sacco, raga. Raga, io attraverserei se fossi in noi. E starei? Andiamo, andiamo, andiamo. Fossi in noi. Fossi in noi. Beh, in parte sei in noi. Cioè, essendo in tefei parte di noi del team. Capitemi, però. Raga, c'è una persona qua. Allora. Una spada di diamanti sta c'è. Dove? Ormai l'ho lasciata andare perché non volevo ingaggiare e rischiare di morire. Fatto bene. È andata verso E. Qualcuno vuole una spada di diamante? Basta! Occhio! Occhio! Chi è che ci lancia? Oh! Eccolo. Raga, è qui. Via, 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 via. Ma questo lo tiriamo giù. Questo lo tiriamo giù. L'ho buttato giù di frecciate. Uh, c'è un first side. C'è un coso. Tranquilli, ragazzi. C'è un po' di robe. C'è il... È capito. È la safe, però diventa un pochino stretto. Sì, andiamo di lava. Vai. Raga, 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 gente a sinistra, gente a sinistra, eh. L'hai preso lo scudo? Raga, son caduto. No, non ci credo. Son caduto. Come hai fatto? Hai scivolato giù. No, non mi ha frecciato, son caduto io. Non mi ha frecciato con nessuno. Ha ucciso... Ha ucciso... Non so se te o io con un... Non lo so. Raga, raccogliete la mia cesta lì in basso che c'era un safe first side. Ah. Io ne ho altri due qua. Alla faccia, R. Ne ho altri quattro. Sì. Dai, Tirlos, dobbiamo portarla a casa questa qua. Arriva, 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 arriva. Tic, dobbiamo spostarci di 43 metri in qua. Sì. In avanti. Andiamo insieme perché... Oltriamo. Sì, sì, sì. Entra, 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 entra. Stiamo dentro. Eccolo. C'è una persona. Dov'è? Aspetta. Aspettami, Tirlos. Ok, ce l'hai fatta da solo. Non ho neanche potuto prendermi. Tic, ho un po' di first aid. Ce n'ho, ce n'ho, ce n'ho, ce n'ho, ce n'ho. Andiamo. Ci sta chiudendo qua, eh. C'è uno fuori. Sì. Ebbè, raga, è stretta la cosa ormai. Tic, dobbiamo andare 40 metri in là. Ti rimasti in otto. Voi due e altri sei. Allora. Dai, dai. C'è una persona qua che si appena... Alla vostra destra, alla vostra destra anche. Alla vostra destra anche così. Tic, se vuoi c'è una persona in alto... C'è qua nella nostra isola. Io lascerai un attimo che si scalmino. C'è uno sopra di voi sul tetto. Ho notato. Ok, colla. Occhio, mi sta prendendo qualcuno. Sì. L'ho sentito sul corpo. Metto un'altra di queste first aid qua. Ecco, occhio, occhio, occhio. Ho visto, ho visto, ho visto, ho visto, ho visto, ho visto, ho visto. Devo andare, dobbiamo andare, dobbiamo andare. Raghi, è Ender Pearl. Ender Pearl, Ender Pearl. No, ma mi ha sposato l'inventare, che fastidio. Ok, l'ho presa. Miro, muoviti. Ok. Siamo... Con la da solo, dai, con la da solo. No, siamo noi contro lui, eh. Ah, sì? Sì. Ok. Vabbè, direi che è fatta. Cosa sta facendo il tipo? Prendi gli piedi, te. Ehi! Sì! Questa sì, l'abbiamo fatta fino alla fine. Bravi, ragazzi. L'ho pure caduto di sotto da solo, nonostante ciò. Però, peccato, guarda, potevamo arrivare tutte e tre con questa. Sì, lo so, guarda, mi mangio le mani. GG, ragazzi. E dunque, ragazzi, questa è stata una bella partita, devo dire, perché ne abbiamo vinta una e siamo arrivati terzi con l'altra, quindi non è andata affatto male. Cosa ne dite? È andata benissimo. È andata molto bene. Sì, soprattutto Eren, che è caduto, però... Ti vei, sono caduto anche da qua ora. Infatti, non sto notando. Ma metti di canzino. Hai il sapone sotto le scarpe, praticamente, oggi. Comunque, ragazzi, mi raccomando, come ho detto all'inizio, lasciate un like a questo video, iscrivetevi ai canali che trovate in descrizione di Eren e di Tearless e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Bye, bye! Ciao! 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 Ciao!